Bella a tutti da Porkmods, eccoci qua in questo nuovo LTS Questo LTS è stato creato da Lunatic De Veste contro Shotaro, regà Andiamo Allora, è bella squadretta, anche Abrimozzo Ma sta qui a Shotaro, regà Perché sono già distrutte, regà? Sta registrato tutto a posto, sì Abrimozzo, sto a scrivere il messaggio? Oddio, poverino Forse Credo Suppongo, regà Allora, spariamoci qualche miniatura Prevedo che sarà leggermente Impossibile, sui Vai, vai Vai tranquillo, sui Princess Non ci voglio, crede Coccobello, tre ore per scrivere Coccobello Io casco Eh, non posso salire sopra Vai, 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 veloci, veloci Un buccoro Non ci voglio credere Che te fai affaracci tu, abaccaro Eh? Se te fai affaracci sua Fatemi salì Aiutatemi sui Come famo, come famo, come famo, come famo, come famo, regà Come facciamo, come facciamo, come facciamo Via, 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 via La macchina bianca non la posso controllare pure, regà Ah, stavo quasi per stare sopra la macchina Dai, team Perché non mi dai una mano, team Eh? Mi vendicherò, regà Sappiate che mi vendicherò Ah, regà, abbiamo un Dario e Sergio alle armi Un incredibile Un incredibile Dario e Sergio che Aiuto Vediamo Mamma mia che Dario Ha pure un Gabri Mozza Ok, ok L'importante è che ci portano il primo round a casa Guardate quante belle kill, regà Mamma mia che meraviglia Potevano essere tutte mie queste belle kill, regà Ma come siamo cascati? In quella parte rossa, regà Io non dico niente Sempre qualche disgrazietta, regà Povero M.Gretto Povero M.Gretto, regà Vai Dario, veloce La miseria Ne rimangono due e abbiamo vinto, regà Almeno una bella notizia Ce l'abbiamo Dario, credo che voleva un po' girato, eh Io credo Dove sta? La miseria arsa? Vediamo round vincitore, prossimo round Ok, secondo round Allora Vi voglio vedere pure se si può citare, eh Perché sono leggermente offeso, regà Ma che completino c'aveva al suino Ho tutto Ho baggato Sì, sì Andiamo a vedere, regà Controlliamo se si può fare una cosa del genere Oddio, sì, eh No No No, regà Non si può, non si può, non si può Andiamo a colpire gli altri, va? Oh, sui Vediamo se c'è qualche bella preda Un potere del suino Ui, baccaro Baccaro, regà Aspettate Ci mettiamo qua preparati Ci dobbiamo sbrigare, eh? Sì Sì, 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 sì Baccaro Vai via, baccaro Sì, se cadi Uh Si ripete la stessa situazione di poco fa, baccaro, eh? Ma la stessa identica, già arato, mamma mia Allora, saliamo su È caduto un altro, non mi sa, eh? Ok Saliamo, regà Saliamo tranquilli Allora, dove stanno? Un anto Uh Aspettate che vivo, vivo, vivo Prima che si riarza Anto Dai, anto è laggato Ci voglio credere È laggato, regaliamo presso Qualcuno arriva dalle armi Là sotto Ok, buono Bonito Vediamo Caduto Aspettate che lo riamo Credo che sia caduto, no? Sì Ci prego Retromarcia Anto Eh, ok, arato, arato È la miseria che c'è la mia deveste oggi, regà Ne rimane uno GTA Italia, regà Al suino che stava a piedi Vediamo Dovrebbe stare ancora lì No, l'hanno schiacciato Dalla minimappa Lo vedo che si muove In una maniera Leggermente strana Che sta pure sotto Dove si trova? Ok, l'ha narrato Round vincitore Prossimo round Ok, terzo round Allora, io vorrei arrivare A quelle bellissime armi Se è possibile Se no, regà Possiamo usare l'altro metodo Invece di fare il percorso dei runners Ci buttiamo giù E cerchiamo di salire su In un'altra maniera, regà C'ho paura io Non nego che c'ho Leggermente Ok, zitti Allora, già qualcuno è creduto Dove lei la cosa Non mi piace Ma dai Ma la moto si spegne Aspettate Sì, sì Zitti, zitti Panchine Ovunque Panchine Ok Sì Che vuol dire? Ah Che è, regà? Ci siamo, eh Cos'è? Ci voglio credere Che è arrivata le armi? Ci voglio credere Mi sono spaventato, regà Mi sono spaventato Adesso ho caduto Non ci voglio credere Zitti, 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 zitti Zitti, zitti, zitti Che è, regà? Eh No Dai, regà Eravamo quasi arriva delle armi Ci eravamo quasi arrivati Ma tanto c'è Dario e Sergio Che ci arriva le armi Sempre E comunque, regà In questa partita Così Stravinciamo Dai, io puro Io puro Lo sapete che faccio Nel prossimo round ancora? Sto fermo Dario e Sergio Arrivare le armi E mi dona una bella oppressora, regà Sto proprio all'inizio Rilassato Tranquillo Vabbè, caro Che buono Round vincitore Prossimo round Che è successo? Perché ho sentito Un'animazione Strana, regà? Ok Quarto round De vestina Se vinciamo questa Abbiamo vinto tutto Perché non abbiamo mai perso, regà E no Sa proprio di no Ok Andiamo Allora, io voglio fare Qualcosa di diverso, regà Voglio fare qualcosa Ah, quasi Quasi, quasi, quasi Ma mi sa che non serve Tutta sta velocità, eh Ok, aspettate Ah, regà Serve, serve, serve Velocità Allora, andiamo a recuperare Il primero Che già sta cosa Non mi gusta, regà Nel modo più assoluto Assoluto Aspettate Dai Perché Un po' di velocità serve, eh Voglio Ok Perché c'è un bel gruppetto Un bel suini Un bellissimo Sì Uno preso Non so cosa è successo Io ho sentito che qualcuno Probabilmente Mamma mia, regà Ho preso pure io C'entro qualcosa, eh Per favore Ditemi di sì Non è caduto nessuno, però Quelli sono riatelli Armi Non lo so che stanno a combinar No, no Mi sa di no, eh Dov'è? Dai Ehi, potete passare Adesso, sui Bravo, sui Aspettate Che qua c'è uno Uno importante No La migretta, regà Però non c'ha la moto Non ha la moto Non ha la moto, regà Senza moto Non può andare Da nessuna parte Che stanno a combinarla? C'è nessuno? A K Aspettate, aspettate Ma come fa a scendere, regà? È sceso Questo andrà indietro Perché, regà Ogni porta Posso prevedere almeno una mossa, regà? Lasciani giù Lasciani giù a K Presidente Per favore Ma Gratta le armi Le armi Le armi Le armi Sì, che te cecchini Oh Ah no, ma il vetro della divesta È proprio così Non è baggato Ma che strano Che strano, regà C'è qualcuno fuori mappa Addirittura Niente, regà Non credo che possiamo fare niente Ma qualche istante sì Aspettate, scendiamo Liscio, Emigret Liscio Chi c'è? Dario Siamo fritti, sappilo Regà Mamma mia Dove stava? Aspettate, aspettate Ha perso l'oppressor Come possiamo fare? Sì, mi è altissimo, regà Ok, possiamo fare tipo così È la miseria È arrivato, regà Ok, quinto round Se stavolta non arriva le armi, regà Se non ci arrivo Non è barito Esce fuori Esce fuori il signorino Le bara Piano, piano, regà Capo Brimont Lo smoking Ah, bene Proprio questo mi serviva, Emigret Assolutamente questo Esplodere così All'inizio dell'LTS Non mi dire che è Emigret Vai, esplorategli, regà Con la pistoletta Vai, vai Che se lo merita Ok, hai uno della nostra squadra La portata Ma caro, regà Ma caro ha colpito Emigret Era uno della stessa squadra, regà Ma io dico No, regà Vincono loro Perché quello va a cittare Oh Sposta la macchina A menta di qualcosa No, regà Che stanno a combinare E a piedi Ce l'avete Oddio, ce l'ha una pistoletta Voi ne possono andare Sì Una pistoletta c'è Ma No Sì Dario C'è i superpoteri Hanno già preso le armi Eh Bravo, Dario Comunque No, regà Nasconditi La radar, Dario Che magari T'hanno visto Si è nascosto Si è nascosto, regà Secondo voi Che se riesce a prendere L'oppressore in tempo Ci salva Il round Sbrigati Si è nascosto a radar Bravo, Dario Regà Sta facendo una missione impossibile Oppressore Oppressore Sbrigato Sbrigato Che t'ha visto T'ha visto T'ha visto Sparagli Dario Sparagli Non ci voglio Crede Grandissimo Dario Regà Io non ho combinato niente Però Il giocatore più importante Di questa LTS Dario e Sergio Complimenti Partita vincitore Se vi è piaciuto Questa LTS Antico Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo Al prossimo video Bella